L'imponente operazione di polizia che è scattata alle prime ore del mattino rappresenta l'epilogo di una complessa e articolata attività di indagine che è stata condotta dal nucleo operativo della Compagnia di Fontana Rossa con il coordinamento della Procura Distrettuale Etnea e che ha consentito di smantellare i molteplici gruppi criminali che gestivano le 12 piazze di spaccio che sono state individuate e monitorate nel quartiere popoloso di San Giovanni Galermo di Catania. Si tratta di piazze di spaccio comunque controllate da Cosa Nostra Catanese che imponeva regole, prezzo e quantitativo della fornitura da approvvigionare. I gruppi criminali operavano sostanzialmente in modo autonomo con un assetto organizzativo proprio di tipo gerarchico ma comunque sotto la supervisione e il coordinamento di Schillaci Lorenzo Michele che è una figura di notevole spessore criminale inorganico al gruppo Nizza e dunque alla famiglia mafiosa catanese Santa Paola Ercolano. Le innumerevoli cessioni di sostanza stupefacente, quindi parliamo di centinaia e centinaia di cessioni giornaliere nell'ambito delle 12 piazze di spaccio, avveniva secondo una dinamica operativa ben consolidata alla quale partecipavano tutti gli sodali in relazione ai ruoli rivestiti e ai compiti assegnati. Oltre al capo piazza che naturalmente si occupava del coordinamento di tutte quelle attività illecite che avvenivano all'interno della piazza, c'erano le vedette preposte alla sorveglianza dell'aria e soprattutto a segnalare tempestivamente l'arrivo delle forze dell'ordine. Poi naturalmente operavano anche i pusher che provvedevano alla cessione della sostanza stupefacente agli acquirenti, a volte da soli, a volte anche avvalendosi della collaborazione di altri sodali che si trovavano in prossimità dell'area di spaccio all'interno di portoni oppure in abitazioni private. L'attività investigativa ha anche permesso di accertare la disponibilità di armi in capo alle organizzazioni criminali, armi che erano pronte per poter essere usate in caso di eventuali regolamenti di conti. A proposito di armi è stato videoripreso un episodio singolare avvenuto in occasione dei festeggiamenti della notte di Capodanno quando si vedono sulla pubblica via alcuni sodali, tra i quali anche Schillaci e Lorenzo Michele, imbracciare ed esplodere alcuni colpi di arma da fuoco con delle armi da guerra, anche con dei kalashnikov e delle pistole. Fondamentale è stata anche la perquisizione effettuata esattamente l'8 novembre del 2019 presso l'abitazione di Schillaci Lorenzo Michele, sfociata poi nell'arresto dello stesso. Durante tali attività sono state infatti rinvenute banconote per un valore di circa 60 mila euro, una pistola e poi diverse carte. La carta degli stipendi, corrisposte alle famiglie dei detenuti mafiosi in carcere, la carta delle estorsioni e la carta delle piazze di spaccio. Grazie.